Allora mister, è passato qualche giorno, abbiamo smartito i festeggiamenti per la promozione ai play-off. Sì, abbiamo festeggiato una buona Pasqua. Sì, è stata una bella festa, una bella soddisfazione quella che abbiamo vissuto sabato. E poi la quantità dei festeggiamenti e l'intensità dei festeggiamenti ti fanno capire come era voluta e desiderata questa qualificazione e quanto poi è stata sofferta. Noi l'abbiamo vista tutto l'anno, soprattutto nell'ultimo periodo, e poi oltretutto coronata da una partita non dico perfetta perché ovviamente si può e si deve migliorare, però è stata una partita esemplare in casa del Teramo, una diretta concorrente, una squadra forte, solida, esperta, quindi ci ha dato merito e ha consolidato questa qualificazione. Se andiamo a vedere la differenza tra i primi tempi e i secondi tempi della Semat, c'è una differenza enorme. Qual è il segreto? Cosa dici negli spogliatoi? Uno è il lavoro fisico, il lavoro fisico atletico che fanno questi ragazzi da inizio anno. Penso che per la quantità di allenamenti poche squadre fanno ciò. Non parlo di un numero altissimo all'allenamento, perciò dico che per il numero degli allenamenti questi ragazzi negli allenamenti danno un'intensità a un livello atletico veramente che non hanno uguali. E poi per quello che volevi sapere tu per la carica tra primo e secondo tempo, no, poi parliamo. Poi cambia da partita a partita, ogni partita è una storia a sé, a livello tattico, motivazionale, dei singoli giocatori. Diciamo che andando a vedere le partite ci ha detto bene, siamo stati fortunati. Ogni settimana ci siamo ritrovati a commentare una semata a cui mancava sempre qualcosa. Possiamo dire che sabato abbiamo unito carattere, cattiveria a livello agonistico, tutto insomma. C'è mancato ancora qualcosina perché quelle partite sul più sette bisogna chiuderle, perché noi eravamo veramente in transagonistica, qualsiasi cosa facevamo, provevamo a fare e ci riusciva benissimo. Siamo riusciti a fermare benissimo il Teramo, soltanto alla fine con qualche palla persa per un po' di disorganizzazione dovuta ai cambi. Gianluca che era praticamente fermo in campo, avevano fatto sì che perdendo due o tre palle il Teramo si riavvicinasse, però lì potevamo essere ancora più bravi nel chiudere la partita e probabilmente anche con uno scarto maggiore ci avrebbe dato merito. Però stiamo guardando il pelo nell'uovo perché i ragazzi sono stati fantastici nel secondo tempo quando abbiamo spaccato la partita a metà e lì abbiamo preso veramente il largo per chiudere la partita. Ieri ci sono stati i play-off a cui come società abbiamo partecipato nella persona del team manager Guglielmo Di Perno incaricato direttamente dal presidente. Che giudizio sui sorteggi, insomma, è capitato l'Ambra? Strano, strano perché sono sorteggi dove non c'è veramente un reale valore di classifica perché sono tre gironi, quindi ci sono delle teste di serie e non si sapeva bene il reale valore tra le prime, tra le seconde di ogni girone, quindi ecco, un po' strano. Per quanto ci riguarda abbiamo preso l'Ambra, l'Ambra la conosciamo, l'abbiamo condannata l'anno scorso anche se ha cambiato qualcosina quest'anno, è una squadra esperta, solida, compatta, gioca molto bene in difesa con l'acquisto di Rapuenas che l'anno scorso ha giocato a Teramo, ha consolidato la difesa, gioca molto bene in attacco, una squadra organizzata, ben allenata, è una squadra che ha vinto meritatamente il proprio girone, anche con qualche punto di vantaggio, quindi diciamo che è una big oramai tra le squadre, tra le realtà della Palamana italiana e per noi era uguale, noi sapevamo che eravamo la terza classificata, quindi eravamo una delle due delle terze, quindi ci dovevamo aspettare una delle big, tra cui Bolzano, Ambra, Fasano e Comersano no, perché erano stessi giocatori nostri, quindi diciamo poco cambia. Ma probabilmente anche a livello di Blasone Bolzano sarebbe stato meglio, forse, perché comunque l'Ambra abbiamo visto anche in Coppa Italia, non è molto inferiore a Bolzano, sì probabilmente Bolzano ha vinto lo Scudetto, ha vinto la Coppa Italia, ha qualcosina in più anche di esperienza, però diciamo l'Ambra si sta testando a questi livelli. Quindi occhio a sottovalutare l'Ambra, insomma nessun sospiro di sollievo per aver evitato il Bolzano? No, noi non ci possiamo permettere di sottovalutare qualsiasi avversario, noi diciamo siamo l'ottava squadra, quindi gli altri stanno sopra di noi, quindi non possiamo sottovalutare nessuno, dobbiamo semplicemente giocare, toglierci qualche soddisfazione e cercare di onorare questo quarto di finale. Poi, come abbiamo sempre detto, il campo è sovrano, la risposta del campo la accetteremo senza problemi. E quindi adesso ci attendono 20 giorni di fuoco? Sì, ci stiamo allenando, ci stiamo preparando questi play-off, andremo a giocare la prima d'Ambra, il 13, il 20 aprile l'Ambra verrà a fondi, poi vedremo se ci sarà l'eventuale bella, sappiamo come gioca l'Ambra, l'ho già studiata, dei ragazzi ancora no, la prepareremo con calma, abbiamo una settimana e mezza di allenamenti, quindi diciamo che ci stiamo preparando. Va bene mister, tutti in attesa, allora per non sabato questo, ma sabato 20, per una grande partita qui al palazzetto? Beh, potrebbe essere una grande festa, al di là del risultato, perché ho visto che anche tutta la cittadinanza di fondi si sta accorgendo che esiste la palla a mano, non quella giocata, ma quella a livello sportivo, di campionati, che arriva ai play-off, e diciamo che questo fa un gran bene per noi, per la società, per il lavoro che stiamo facendo. E' vero, il 13 andremo ad Ambra, poi vediamo il risultato che ci sarà ad Ambra, ci giocheremo la seconda partita in casa, cercando di ben figurare, ovviamente di non perdere davanti al nostro pubblico, poi vedremo se congratularci con gli avversari, esultare noi, andare a giocare la terza di nuovo ad Ambra, insomma, nulla c'è precluso, perché adesso ogni partita ha una storia a sé, una partita secca, in cui potremmo dire tanto, però ecco, dobbiamo stare attenti, perché siamo gli ultimi arrivati, arriviamo in punta di piedi, senza andare a togliere il pane a nessuno, però insomma, vogliamo giocarcela. Un'ultima domanda, mister, allora, sabato a Teramo si è vista una partita vetrina per lo sport della palla a mano italiana, siamo convinti che la società vorrà ripetere la stessa esperienza, visto anche gli sforzi del Teramo, per preparare uno spettacolo all'infuori del campo, siamo sicuri che la SEMAT vorrà onorare l'impegno dei play-off allo stesso modo e cercare di creare così, di dare un segnale forte alla federazione e allo sport in generale. Prima di tutto vorremmo onorarlo sul campo, con dei risultati. Poi, è chiaro che la nostra società è stata da sempre all'avanguardia per quanto riguarda tutto l'extra, parlo della comunicazione, del marketing, della pubblicità, attraverso i social network, attraverso internet, attraverso il mini handball, le scuole, quindi sono sicuro che la società non si farà pregare per questo, anzi, già so che sono a lavoro per organizzare questo bel evento, poi a me interessa che l'evento migliore sia quello del campo, poi il resto conta poco, però sono sicuro che loro faranno il meglio anche fuori e noi dentro. Eccoci con il capitano Stefano Di Manno. Stefano, allora, abbiamo smaltito i festeggiamenti? Sì, sì, abbiamo smaltito, già siamo goduta, però ecco, già da stasera ricominciamo a lavorare. Speriamo bene. Sabato è stata una partita importante, una grande semat si è vista, soprattutto nel secondo tempo, che non ha lasciato scampo al Teramo. Sì, è stata una partita ben preparata, ben giocata, i ragazzi, compreso me, abbiamo interpretato bene la gara e il Teramo è stato fortemente in difficoltà e infatti siamo riusciti a mettere in cantiere un bel break che poi abbiamo gestito fino a fine gara. Tu hai giocato anche ad alti livelli, già oltre che quest'anno in Serie A con il Fondi. Che sensazioni però si provano a raggiungere il play-off? Certo, sono motivazioni diverse. Sono delle sensazioni che penso che non sono spiegabili a parole, però posso assicurare che sono sensazioni che ripagano di tutti i sacrifici e il lavoro che da agosto stiamo mettendo in campo. Quel breve momento ripaga degli sforzi fatti per mesi. Questo è incredibile. Ieri ci sono stati i sorteggi per gli accoppamenti di play-off. Al Fondi è capitato Ambra. Sospiro di sollievo per aver evitato Bolzano, per esempio. Attenzione, anche Ambra è una grande squadra. Io penso che arrivati a questo punto ogni squadra è molto forte. L'Ambra non scordiamo che è arrivata ha fatto prima nel suo girone, quindi è una squadra molto, molto temibile. Il fatto che ci sia capitata Ambra non vuol dire cioè la favorita per passare il turno è comunque Ambra, senza fuori discussione. Noi metteremo come sempre anima e corpo per fare una bella figura indipendentemente dal risultato. E adesso il 13 si attende la difficile trasferta ad Ambra e poi il 20 in casa. Cosa ti attendi? Una bella risposta del pubblico? Certo, io penso che il pubblico ha sempre risposto bene a queste grandi gare però penso che è un evento storico che il Fondi sia ai play-off scudetto quindi il pubblico fondano appassionato come è di parla a mano non si farà scappare l'occasione di gustarsi una partita a grandi livelli e comunque noi facciamo appello il 20 aprile non solo l'orario ancora penso alle 6 in tutti i casi spero che tutto il pubblico fondano e le appassionati di parla a mano vengano a vedere questa interessante partita alle 7 mi dicono le 7 Eccoci con Marco Lauretti alla sinistra della Semet Marco allora sabato è stata una partita storica per la Semet una vittoria storica Eh sì è stata una bellissima partita abbiamo dominato si può dire che abbiamo dominato questa partita e abbiamo vinto e siamo qualificati ai play-off che era il nostro obiettivo speriamo di fare meglio anche nelle prossime partite Quali sensazioni ti ha lasciato la partita? È stata una partita bellissima da giocare emozionante anche perché c'era anche il nostro tifo non solo il loro che è stato molto d'aiuto è una partita importante e le partite importanti sono quelle più belle da giocare Spesso la Semet ha dimostrato un secondo tempo di un livello superiore rispetto al primo qual è il segreto? Forse che dobbiamo metterci in difficoltà per cacciare il meglio di noi infatti ogni partita quando subiamo un po' di 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 tensione giochiamo meglio forse è questo che ci aiuta a sbloccarci nel secondo tempo Sabato si è vista una partita vetrina per la palla a mano italiana speriamo che anche le prossime due partite soprattutto quella del 20 che si giocherà poi a fondi con una cornice pubblico adeguata rispecchi queste cose speriamo che ci sia un molto pubblico a sostenerci così con il pubblico riusciamo a giocare molto meglio e ci sentiamo molto più carichi un'ultima domanda l'ultimo turno ha messo in mostra con la Vittoria Colteramo che la forza della Semet forse è proprio il gruppo non i singoli quello che penso anche io è proprio che la squadra quando ci uniamo non ce n'è per nessuno grazie